Succede questo, praticamente. Benotti, che abita nel cuore di Roma, eccola qua, la nostra capitale magnifica, attraversa questo ponte che è il ponte di Castel Sant'Angelo. Va verso San Pietro e dietro San Pietro c'è uno dei quartieri più importanti di Roma, quartiere Prati. Eccolo qua. Questo Benotti, devo dire che il nostro attore è un po' dimagrito, però che cosa fa? Sta aspettando lui, Bonaretti. Ma in realtà Bonaretti non arriva solo. Arriva incredibilmente con Domenico Arcuri. Eccoli qua. Domenico Arcuri non era aspettato, come ha detto Mario Benotti. Io non lo aspettavo, me lo son trovato lì improvvisamente. Però state attenti. A un certo punto, dopo degli scambi, dei saluti, come vedete, Benotti e Arcuri si allontanano, lasciano da parte Bonaretti. E qui c'è un passaggio incredibile. La notizia è gravissima, severa, ripeto, severa. Arcuri dice non contattarmi più, perché a Palazzo Chigi mi hanno informato di un'indagine dei servizi segreti. Segreti. Io per non sbagliare, visto che su quel relato, leggo le parole che ha dato Benotti. Le facciamo leggere. Arriva il commissario e mi dice che c'erano le difficoltà, che a Palazzo Chigi lo avevano informato, che c'era un'indagine su tutta questa situazione, forse dei servizi. Lo avevano informato di una questione di voli da Israele. Insomma, mi prego di interrompere qualunque comunicazione con lui. Cosa che ho fatto? Quarta Repubblica. Benotti.